Musica Buonasera e bentrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Molise TV. Il campo basso è chiamato a riscatto dopo la sconfitta di Mugnano con l'Arzanese. Al nuovo Romagnoli arrivano i Toscani del Poggi Bonzi. In bimbo può contare su una migliore formazione. Intanto non si placa la polemica di patron Ferruccio Capone contro la questura del capoluogo molisano. Ascoltiamo il servizio d'apertura di Giuseppe Formato. Il campo basso riparte dalla gara contro i Toscani del Poggi Bonzi. I lupi di mister Edoardo in bimbo dopo la pesante sconfitta subita a Mugnano per mano dell'Arzanese e puntano all'immediato riscatto per cercare di conquistare il secondo successo consecutivo. L'allenatore rosso-blu rispetto alle prime uscite stagionali potrebbe operare un cambio di modulo passando dal 4-3-3 al 4-4-1-1 senza escludere la possibilità di affidarsi pure al 4-2-3-1. I dubbi legati alla formazione e al modulo anti-Poggi Bonzi saranno sciolti soltanto all'immediata vigilia dell'incontro. In bimbo nella partita contro il Poggi Bonzi dovrebbe affidarsi a Cattenari tra i pali, a Capitan Minadeo e Candrina al centro della difesa con i terzini boi e di libero, anche se Modica, assente per infortunio nell'ultima partita, potrebbe recuperare ed essere del match. Le chiavi della mediana saranno affidate a Dallocco e Forgione che saranno supportati da Esposito che potrebbe essere impiegato come esterno alto sulla corsia Mancina e Conatè. A centrocampo pure l'ex Cagliari Mannoni si candida per un posto da titolare. In avanti Morante dovrebbe essere appoggiato da Sciarra. Si gioca alle 15 allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Dirigerà il match Edoardo Paolini di Ascoli Piceno che avrà come assistenti Atanasio De Meo di Foggia ed Emanuele Prenna di Morfetta. Intanto la vigilia della partita contro il Poggi Bonzi è stata animata dalla minaccia del presidente Ferruccio Capone di ritirare la squadra dal campionato a causa di un verbale di contestazione arrivato alla società Rosso-Blu da parte della questura di Campobasso firmato dal dirigente Agostino De Paolis nel quale si ravvisa che il club utilizzi un numero inadeguato di steward durante le partite casalinghe. Secondo il verbale occorrerebbero 30 steward in luogo dei 15 utilizzati. La normativa parla chiaro, ha affermato il presidente Ferruccio Capone attraverso un comunicato stampa. È necessario uno steward ogni 250 spettatori. Siccome lo stadio di Selvapiana è omologato per 3.998 posti, le 14 persone addette alla sicurezza sono sufficienti. Avere un numero raddoppiato di steward significa aumentare i costi di 1.500 euro a partita per un totale di 25.000 euro per tutto il campionato. La decisione di ritirare la squadra dal campionato deriva anche dal fatto che sembra che al club potrebbero giungere due multe da 33.333 euro ciascuna per le prime due gare casalinghe durante le quali sono stati utilizzati un numero inferiore di steward rispetto a quelli che la questura di Campobasso ritiene necessari. Sarà dunque un fine settimana interessante e domani dopo la partita contro i Poggi Bonzi sicuramente il presidente Ferruccio Capone dà da seguito alle sue esternazioni tramite una conferenza stampa. E ora con l'ausilio della nostra grafica leggiamo insieme le partite in programma per il terzo turno del girone F di Serie D. Amiternina Vispesaro, Ancona Celano, Astrea Fidene, Iesina Termoli, Maceratese Civitanovese, Olimpia Agnonese Città di Marino, Renato Curia Angolana Recanatese, San Nicolò Isernia, San Cesario San Benedettese. E l'Isernia Football Club viaggia alla volta di Teramo per affrontare il San Nicolò. Farina deve rinunciare allo squalificato Artiaco mentre Palumbo partirà dalla panchina. In avanti il tandem Panico-Vinci Guerra. Vediamo il servizio di Barnaba Iannelli. Seconda giornata del campionato di Serie D. Domani pomeriggio l'Isernia affronterà in trasferta il San Nicolò allo Stadio Nuovo Comunale di Teramo. Settimana intensa questa per i Biancocelesti con il tecnico Farina impegnato a lavorare più che altro sulla fase difensiva, oggetto di critiche dopo i 6 gol subiti in due gare dall'inizio del campionato. Ci siamo concentrati sulla difesa della porta, sul temporeggiamento, dobbiamo crescere, sento che questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Sono queste le parole dell'allenatore Sernino alla vigilia della gara del campionato. Il tecnico è pronto a riconfermare il 4-4-1-1 che ha consentito ai suoi di ottenere il primo pareggio domenica scorsa a Recanati. Alternativa già pronta a quella del 4-3-3, modulo che però non ha fruttato i risultati sperati nella prima gara casalinga persa contro la Vispesaro. In porta ci sarà Buc che gode finora della piena fiducia del mister. Difesa sicura a 4 con Ricci, Fusaro, Velardi e Varchetta. In cabina di regia Gera Galuppi con Barbella centrale, Lunardo e Ruggeri gli esterni. In avanti confermato il Campobassano vinci guerra che aggirà alle spalle di Bomber Panico, andato a segno con un bellissimo gol da centravanti di razza domenica scorsa nel finale di gara. Per il San Nicolò l'uomo chiave si chiama Costantino. Attenzione a questo esterno d'attacco che ha già messo a segno tre delle cinque reti realizzate dai terramani dall'inizio del campionato. Per il San Nicolò, mister De Amicis è pronto a riconfermare la squadra che ha dettato legge contro il Fidene, vincendo per 4-1. Tra i pali confermato Biasella, difesa a quattro con Antinucci, Piccioni, Coccia e Pulci. A centrocampo in linea mediana Mottola e Petronio, Costantino e Guerriero laterali. In avanti spazio la coppia d'attacco Padovano e De Santis. Appuntamento dunque domani alle ore 15. L'Iserno è pronto a affrontare la gara a testa alta per provare a portare a casa i primi tre punti della stagione. Il Termoli è pronto per la sfida contro la Iesina dopo il roboante successo contro il San Cesareo. L'allenatore giallorosso Mimmo Giacomarro potrà contare sul rientro del difensore Maione, assente domenica scorsa. E' particolare nel servizio di Vania Cristinziano. Per la terza di campionato al Termoli non sarà concessa alcuna distrazione. Contro la Iesina, che sorprendentemente ha rimediato un punto la settimana scorsa contro la favoritissima del girone, l'Ancona, non sarà facile confrontarsi. Di nuovo assente dal campo il tecnico Giacomarro, che dovrà comunque incoraggiare i suoi ragazzi. E di grinta il mister ha dimostrato di averne anche quando non siede in panchina. Compito del Termoli sarà quello di confermare i progressi che si sono registrati nell'ultima settimana, mantenendo la concentrazione giusta. L'avversario marchigiano fa paura, ma dalla parte dei giallorossi c'è l'assenza del bomber Sebastianelli, che contro l'Ancona aveva rimediato il pareggio. A guidare l'incontro sarà l'arbitro Celentano di Torre Annunziata, mentre a difendere la porta del Termoli ci sarà il solito imbimbo, aiutato nella difesa da Viteritti, Ghi Mercurio e Corazzini. Centrocampo tutto per Cianni, Felici, Moretti e D'Angelo. Alla ricerca del gol ci saranno Bonanno e Bartolini. Vincere per restare per tre giornate in testa alla classifica del girone F di Serie D. Con questo spirito l'Olimpia agnonese di mister Corrado Urbano affronterà Città di Marino. Vediamo il servizio curato ancora da Barnabà Iannelli. Domani pomeriggio al Civitelle andrà in scena la capolista. L'Olimpia agnonese dopo sole due giornate infatti è in testa al campionato a pari punti con una delle vere pretendenti al salto di categoria quale è l'Ancona. L'avversario di turno per la seconda giornata di Serie D sarà il Città di Marino, squadra che, al contrario, rappresenta il fanalino di coda del girone, ancora a coda a zero punti dopo i primi due turni della stagione. Altra grana per gli ospiti del Città di Marino è rappresentata dall'abbandono del presidente Esposito, che si è dimesso dopo la sconfitta casalinga rimediata dalla sua compagine contro la Renato Curi Angolana. A dirla così, sembrerebbe un gioco da ragazzi per l'Olimpia agnonese superare gli avversari domani. Mister Urbano però non si fida, convinto com'è che gli ospiti non regaleranno di certo i tre punti sul campo. In settimana l'Olimpia agnonese ha lavorato molto sulla condizione fisica e ha sostenuto un test amichevole contro la Turris Santa Croce. 6-2 il risultato finale in favore dei Granata, con il trainer Alto Molisano soddisfatto della prova dei suoi. Quasi fatta per domani, dunque, è la formazione anti-Città di Marino. Confermato da Urbano il 4-3-3, in porta Gaudino, difesa composta da Patriarca, Scampamorte, Litterio e Pifano, che proverà le sue solite offensive in fase di possesso palla. In cabina di Regia, Artipilo è ricamato con più avanzato di Lollo. In attacco Sivilla più laterale, con il rientro pronto di Bomber Orlando, che affiancherà quasi sicuramente l'esperto Bubu Keita. Tutto pronto quindi in casa Granata. Appuntamento domani alle ore 15. Società, staff e squadra si augurano di uscire dal terreno di gioco con i tre punti in tasca per confermarsi in testa al campionato. E scendiamo di categoria e parliamo di calcio di eccellenza. Vediamo la grafica con le partite in programma per la seconda giornata di campionato. Sessano-Virtus-Matesina-Sant'Angiolese, Boiano-Roccaravindola, Montenero-Turris-Santa Croce. Campo basso 1919, sesto campano, giocata oggi è terminata con risultato di 3-0, sesto campano. Calcio da una Pozzilli, altro anticipo di questo pomeriggio, terminata 3-0. Maronea-Gambatesa, Vasto-Girardi-Cerrese, Venafro-Fornelli, l'ultimo anticipo di questo sabato è terminato 2-0 a favore del Fornelli. Vediamo la classifica di eccellenza. Sesto campano e Fornelli guidano con sei punti. Boiano-Vasto-Girardi, Virtus-Matesina-Sant'Angiolese, Turris-Santa Croce, Calcio-Dauna e Campo basso 1919, seguono con 3 punti. Ad un punto troviamo Gambatesa e Venafro e chiudono con 0 punti. Roccaravindola-Sessano, Montenero-Cerrese, Maronea e Pozzilli. Con una doppietta dell'ex di turno, Ricci-TL, una rete di Monaco di Monaco, il sesto campano asfalta e Campo basso 1919. Vediamo i particolari nel servizio. Il big match della seconda giornata di campionato tra Campo basso 1919 e il sesto campano se l'è aggiudicato la compagine ospite allenata da Vittorio Mancini con il punteggio di 3-0. Ma veniamo alla cronaca dell'incontro. È sfortunata la squadra di casa che all'ottavo minuto perde per infortunio Ciarlariello rimpiazzato da Morena. Al ventunesimo pasticcio sfiorato dal team di Mister Lozzi per via di un'indecisione tra Aceto e uno dei suoi difensori. Monaco di Monaco non riesce ad approfittare e manda fuori di un soffio. Al venticinquesimo potevano esserci gli estremi per la massima punizione per il Campo basso 1919 per un fallo di Mancini su Esposito. Il signor Mastro Giuseppe di Sulmona giudica regolare l'intervento del player manager del sesto campano. Al trentunesimo calcio di punizione di Vittorio Esposito potente ma centrale. Quattro minuti più tardi la rete del vantaggio per il sesto campano con Riccitiello che alla meglio su un difensore locale imbuca l'1-0. Passano solo tre giri di lancette. Monaco di Monaco di testa in sacca alle spalle di Aceto e il 2-0. E veniamo alla ripresa. La rete che chiude i giochi arriva al sesto minuto dai piedi di Riccitiello che su calcio piazzato lancia una cannonata valida per la sua doppietta personale ed il 3-0 per il sesto campano. Al decimo minuto il Campo basso prova a reagire con una punizione di Nunziato Esposito in corna ma Ricci non si fa trovare impreparato. Un minuto più tardi il team di Mancini spera il poker. Conte raccoglie un lancio dal versante opposto. Aceto esce a vuoto e lascia la porta sguarnita ma Monaco di Monaco incredibilmente spedisce fuori. Al 37esimo Esposito deve lasciare anzitempo la contesa per via del secondo giallo rimediato in gara. Tre minuti dopo anche il sesto campano resta in dieci uomini per l'espulsione di Pirone precedentemente stanzionato dal direttore di gara Mastro Giuseppe Di Sulmona. Al novantesimo del Zingaro subentrato al quindicesimo della ripresa a Morena sfiora il gol della bandiera e il suo colpo di testa colpisce la traversa. E non è ancora finita. Riccitiello a pochi secondi dal termine rischia di mettere a segno la tripletta personale. Il suo tiro però si stampa sul palo. Al triplice fischio sesto campano batte il Campo basso 1919 per 3 a 0. Guadagno su calcio di rigore e bove regalano i tre punti al Fornelli che spugna il Marchese del Prete di Venafro per 2 a 0. Il servizio di Daniele Petrecca. Vediamo. Fornelli corsaro al Marchese del Prete al cospetto di un Venafro coriaceo e volitivo ma che colleziona una sconfitta all'esordio in casa. Biancoverdi bene nella ripresa dove sono abili a capitalizzare le due vere occasioni da rete portando a casa tre punti. Venafro vistosa casacca verde schiera oltre a Wade e Riccitiello Junior Roberto Sacco con i suoi 45 anni suonati e non li dimostra. Fornelli si affida a Pennacchioni e Papa in avanti. Primo tempo, quinto minuto risponde il Venafro a un affondo calcio d'angolo con Russo che incorna ma la palla si spegne a lato. Ottavo minuto la replica affidata a Pennacchioni per il Fornelli che colpisce Teso dalla distanza. Tredicesimo minuto Fornelli punge con la percussione di Carbone con Papa che tenta la girata a sensazione ma è apprezzabile solo il gesto tecnico. Ventiquattresimo minuto punizione di Wade che sorvoda la trasversale. Il Fornelli soffre un po' e il Venafro si fa vedere con un jolly di Capaldi, l'ob di sinistro che Giuliano rimedia in angolo. Affanno! La gara scorre piana senza particolare emozioni con il Venafro increscendo e il Fornelli che appare un po' nervoso e contratto 0-0. Con il filmato montato da Rosario Varone passiamo alla ripresa, non ci sono cambi ma il Venafro è sempre più tonico. Secondo minuto Nardolillo crossa in mezzo ma la corrente Riccitiello perde l'attimo. Il Fornelli risponde con il solito Carbone che prova a scuotere i suoi ma i compagni sembrano in giornata no. Nono minuto Coletta si avvede di qualcosa che deve cambiare e allora gioca la carta a Vitelli richiamando un terzino Masiello difensore. Ma il ventiduesimo è sempre il Venafro che si distende, Wade pesca in allungo del prete che tutto solo fa partire solamente un lob ma Giuliano non perde rischi. La partita si innervosisce un tantino qualche scaramuccia fra Carbone e Wade e a fare il break è finalmente Mingione che ruba palla e conclude teso ma con poca fortuna. Vitelli fa vedere di che pasta è fatto e al terzo a fondo colpisce 28esimo a solo personale palla in mezzo per Pennacchioni che viene messo giù. Per il direttore di gara e calcio di rigore fa le vibranti proteste dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Pippo Guadagno che trasforma 0-1. Izzo perde la testa, fa partire una bella bestemmia e il direttore di gara non ci pensa su, applica il regolamento. Rosso diretto, Besantis nei guai. Entra il portiere Oliva, il Venafro è con il morale a terra e allora è sempre Vitelli a prendere iniziativa sugli avversari. 41esimo, l'ex Isernia mette in mezzo il tapin vincente ma è il neoentrato Bove a far gol 0-2 e il giovane bagna il suo esordio con una rete. La gara non ha più nulla da dire, il Fornelli strappa letteralmente dalle mani di un coriaceo venafrio tre punti. Padroni di casa che devono recriminare forse solo con se stessi per essere calati nella ripresa e per quei dieci minuti di pura follia. Il Fornelli prosegue la sua corsa e incassa una vittoria importantissima in chiave classifica. E nel prossimo servizio la presentazione delle gare domenicali del campionato di eccellenza. Vediamo. Domani pomeriggio scena le altre gare varie per la seconda giornata del campionato di eccellenza molisana. Dopo i tre anticipi di lusso che vedranno porsi in campo quest'oggi il campo basso 19-19 contro il sesto campano, la gioventù d'Auna contro la Virtus Pozzili e il Venafro opposto al Fornelli e al Marchese del Prete, in programma per domani le restanti gare del campionato. Spicca infatti l'esordio casalingo del Boiano che affronterà il Roccaravindola per riconfermarsi tra le pretendenti al titolo. Altra gara da tenere d'occhio è senz'altro l'ostico match tra il Montenero e la Turris. I padroni di casa sono ancora senza un punto in campionato dopo la prima giornata, mentre la Turris, a punteggio pieno, tenterà senz'altro il colpaccio per ottenere il massimo dalla gara. Il vasto Girardi ospita l'Acquaviva Cerrese che dovrà riscaltarsi dalla brutta sconfitta casalinga rimediata contro il Boiano. Capitolo cambatesa, ospiti di giornata contro il Maronea e i Biancoverdi, dopo aver fermato domenica scorsa il Venafro al Marchese del Prete, tenteranno il bis allontanandosi dai bassi fondi della classifica. La speranza di giornata è che le gare, tutte in programma domani alle ore 15, possano regalare una notevole affluenza di pubblico e gol a grappoli per la domenica del calcio molisano. Veniamo ora al campionato di promozione, vediamo con la nostra grafica il programma delle partite della seconda giornata. Riccia Roseto, Criternina Biferno, Vairano Castelmauro 4 a 1 giocata questo pomeriggio, Toro Rocca Sicura 1 a 0, Montaquilari Qualimosani 1 a 0, Rocca Vivara Alife 1 a 1 e domani andranno in scena Rinascita Bussese, Campodipietra, Santeliana, Vintiaturo. Vediamo la classifica, Vairano e Rocca Vivara guidano con 4 punti, 3 punti per la Rinascita Bussese, Roseto, Vintiaturo, Biferno, Rocca Sicura, Castelmauro, Montaquila e Toro. Due punti per la Alife, chiudono con 0 punti la Santeliana, Criternina, Riccia, Campodipietra e Ripalimosani. Parliamo ora di atletica, domenica dedicata al podismo, quella di domani ad Isernia. Due gli eventi, prima la Corri Isernia, organizzata dalla nuova atletica Isernia e successivamente il trofeo del Matese con la firma della SC Promosport. Dalle 16 inizierà il lungo pomeriggio dedicato all'atletica leggera. Vediamo il servizio di Arianna Gentile. La città di Isernia si prepara a vivere una domenica all'insegna dello sport, del divertimento e del buon gusto. Oltre 600 atleti, italiani e stranieri, bambini e adulti, tesserati e non, esordienti e diversamente abili, si posizioneranno ai nastri di partenza della Corri Isernia, che per 7 anni coinvolge ed entusiasma tutti gli sernini. La manifestazione che evoca lo sport, ma che con il tempo è diventato un evento sociale, è stato organizzato dall'associazione Nuova Atletica Isernia. Lo starter darà il via alla gara in piazza Stazione, che vedrà la partecipazione anche di una promessa dello sport molisano. Il nome di prestigio che siamo riusciti a portare a Isernia è il nostro alfiere, Andrea Lalli, alfiere dell'atletica molisana e nazionale, che parteciperà insieme ad altri atleti keniani e marocchini, nonché a dei giovani non più promettenti, ma fortissimi atleti molisani, della Virtus e della Molise, che in collaborazione col Comitato regionale abbiamo deciso di mettere in vetrina insieme a questi grossissimi nomi. L'appassionante manifestazione, che ogni anno si rinnova grazie al sostegno della provincia, del Comune e della Camera di Commercio di Isernia, è stata arricchita con spettacolari iniziative, una fra tutte la corsa all'americana, che prevede ad ogni giro un'eliminazione. Alla Corrisernia parteciperà anche l'Aiga, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, i donatori iscritti all'Avis e l'Associazione Noi 80. Spazio verrà dato anche all'AIC, l'Associazione Celiaci. E poi abbiamo quest'anno anche la collaborazione dell'AIC, che è l'Associazione Italiana Celiaci, abbiamo preparato un punto ristoro proprio per i celiaci, nonché uno stand dove verranno date tutte queste informazioni per un problema che è diventato abbastanza serio in Italia. Quindi tutte queste manifestazioni saranno coordinate da noi come un'altra di Casernia e chiaramente la collaborazione e ringraziamenti va anche a tutti i nostri amici commerciali che ci danno un supporto anche economico. E parliamo ancora di podismo, la podistica Castellino, protagonista al di fuori dei confili nazionali. Tre atleti infatti correranno la Maratona di Stoccolma. Prima di salutarci vorrei ricordare gli appuntamenti di domani qui su Molise TV, alle 14.50 inizierà la diretta di Studio Stadio con collegamenti dai principali campi di Lega Pro fino ad arrivare all'eccellenza. Alle 18 seguirà la seconda parte di Studio Stadio condotta da Giuseppe Formato nella quale verranno mostrati i servizi degli incontri appena giocati e commentati poi successivamente con gli ospiti in studio. Alle 21.30 seguirà la trasmissione indifferita dell'incontro casalingo del Campo Basso. Ricordiamo che la nostra emittente ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione indifferita delle gare della squadra del capoluogo. Era questa per oggi la nostra ultima notizia. Grazie di essere stati con noi e l'appuntamento è a domani. Buona serata.